Musica Benvenuti all'appuntamento con le ultime notizie su Teletruria, le nostre breaking news. Don Daniele Leone trasferito parte la petizione dei fedeli. Insorgono infatti i parrocchiani a Pozzo della Chiana per il trasferimento in Casentino, sembra di Don Daniele Leone, il prete ex militare dell'esercito. Post sulla pagina Facebook di 6 di Pozzo della Chiana a sé con l'annuncio dell'inizio della raccolta delle firme da parte degli stessi parrocchiani per far rimanere Don Daniele nelle parrocchie di Cesa e Pozzo. Sequestrata azienda che produce droga, oltre due quintali di cannabis trovati in questa maxi serra, arrestati due giovani da parte della stradale di Battifolle, tutto questo appunto ha portato alla scoperta di questa maxi azienda che produceva cannabis e quindi droga. Tanta gente ad Arezzo Classic Motors che è arrivata all'edizione numero 24, ad Arezzo Fieri e Congressi, una Kermess che ogni anno mette in mostra tante moto, tante auto d'epoca e ci sono anche occasioni di acquisto di questi gioielli dei motori. Ed è tutto per l'edizione odierna del nostro breaking news. Grazie per averci seguito e arrivederci. Grazie per aver guardato il nostro canale.